Salve a tutti e benvenuti in questo video in cui vi parlerò del nostro anniversario. Nell'ultimo video vi ho mostrato come abbiamo decorato il giardino e la festa sorpresa che mi hanno fatto. La mia amica Labuni mi ha trasformato da così a così. Dopo la trasformazione da Ranocchio a Principessa, siamo andati a Venezia a fare delle foto. Sono sicurissima che il video vi piacerà, quindi lasciate un mi piace sulla fiducia e se non mi seguite ancora, seguite le mie pagine. Bando alle ciance, iniziamo! Non scandalizzatevi, noi mangiamo con le mani. Ecco i nostri ospiti speciali. Avevo lasciato il telefono per fare dei video e proprio allora... Ma no, tranquilli, è ancora intero. Somaia e mia cognata devono andare. Somaia, ciao! Dopo il saluto iniziano le pose. Ecco Chiara e Marco, essenziali per l'organizzazione di questa festa. Veramente approfitto per ringraziarvi. Eccola Giuti che vuole fare la foto con un ragazzo carino. E non ha trovato un ragazzo carino? E quindi si accontenta dei cugini alti? Questa finisce su YouTube sicura. Do ripeto? No, sì! In tutto ciò, guardate la faccia di Preet. Comunque, dopo un po' sono arrivate le mie altre amiche. Allora iniziano le foto su foto. Questa cosa di fare le pirouette è partita a caso, ma... Ragazze, fate spazio al fotografo serio. Facciamo anche le foto di gruppo. E dopo le foto mangiano anche loro. Sembrano i classici video dei matrimoni in Bangladesh. Riprendiamo tutti che mangiano. Yeee! Già nel pomeriggio abbiamo acceso la griglia per la grigliata di stasera. Non crediate che la festa sia finita. Anzi, è appena cominciata. Stiamo accendendo le luci per poi poter cantare, ballare e mangiare ancora. Il tutto nel prossimo video. Dai, per adesso basta così. Non perdetevi il prossimo video. Ciao ciao! Ciao!